Un nome mitologico è sceso dall'Olimpo degli Eroi, un uomo forte e leale, pronto a sacrificare la sua stessa vita per un ideale di giustizia. Nulla possono contro di lui gli avversi destini, le forze del male scatenate e la sadica violenza dell'usurpatore. Nessuno può gareggiare contro la straordinaria potenza dei suoi colpi. Niente potrà mai piegare il suo indomito coraggio, perché quest'uomo si chiama Sansone. La stretta delle sue braccia è pari a quella di una gigantesca morsa. Il suo pugno ha la pesantezza di un maglio. Sansone, un eroe che piace al pubblico e che non dimenticherete mai. Forza bruta. Tradimenti. Colpi di scena si susseguono in questo spettacolare pilce. Il trepido amore di Giammi, una dolce creatura pronta a morire per salvarlo. Oso, e tu sai perché? Prima che Sansone giungesse qui, tu e io. Va a calma! Terebina, pensa a lei. Non devi temere per Sansone, se la caverà. Un film che vi lascerà senza respiro dall'inizio alla fine. Brillante nelle situazioni, entusiasmante, travolgente nel ritmo. Scatenato come scatenato è il suo protagonista. Più avventuroso di un western. Colossale nella realizzazione. Questo è il film dell'anno. Il film che tutti dovete vedere. Sansone, interpretato da Brad Harris. Il più acrobatico attore del mondo. E ora, voglio tutta la verità, su Mila. Il sadismo di Barcalla. Romilda, combattuta tra l'odio e l'amore. La schietta umanità di tutti i personaggi. Fanno di Sansone un film indimenticabile. Migliaia di figurazioni, costruzioni colossali e la fedele ambientazione dell'epoca classificano Sansone fra le superproduzioni dello schermo. Presentato dalla Pilmar, prossimamente qui. Fattu coire. Fattu coire. Grazie a tutti.